quella di domenica 29 ottobre 2023 è stata una giornata molto particolare per simona ventura nello studio di domenica in ha abbracciato mara venier con la quale non si rivolgeva uno sguardo da anni poche ore dopo alla presentazione del film shukran tratto da un libro scritto dal suo compagno giovanni terzi ha posato per i fotografi assieme a barbara d'urso altra collega con cui i rapporti erano ghiacchiati da tempo dunque si può dire che è finalmente arrivata la pace con entrambe a rispondere alla domanda è stata la stessa super simo raggiunta dai microfoni di super guida tv io sono molto felice è un momento di pace e voglio pace con tutti anche perché succedono delle tali belle cose per noi e delle tali brutte cose in giro che non vale proprio la pena essere in lotta con nessuno così l'avventura che conferma di essersi lasciata alle spalle i rancori personali con la venier si allontanò quando stava assieme a gerò carraro figlio di nicola ossia il marito della padrona di domenica in non si sa cosa sia accaduto di preciso privatamente tra le due ma si sa che per anni non si sono rivolte la parola discorso diverso con la d'urso con barbarella pare non ci sia stato alcunché di gravi semplicemente non c'era filin c'è stata qualche punzecchiatura negli anni scorsi anche a livello mediatico ora la pace magari la tigre di chivasso non andrà a cena con entrambe le colleghe ma l'importante è che sia tornato ad esserci un rapporto di rispetto grazie 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 grazie